Buongiorno a tutti, sono sull'autostrada Palermo Capaci, aeroporto Falcone Borsellino di Palermo e sto andando all'aeroporto e sono a un chilometro e mezzo dal punto in cui il giudice Falcone e la sua scorta hanno conosciuto la morte con un attentato terroristico da parte della mafia su questo pezzo di autostrada fu fatto esplodere una quantità di tritolo che devastò tutta quanta l'autostrada e uccise Giovanni Falcone, un giudice meraviglioso, sua moglie Francesca Morvillo e gli uomini della scorta a ricordo di questa strage che ha cambiato per sempre il modo dei siciliani di rapportarsi con un argomento così difficile come la mafia, la consapevolezza di un problema come la mafia, sull'autostrada sono stati installati due monumenti che ricordano quella data bruttissima non solo per la Sicilia ma per tutta quanta l'Italia questi sono i due monumenti che sono in tutte e due le carreggiate qua sulla destra, 23 maggio 1992